ben arrivati puntata speciale questa di special one della nuova stagione 2011 2012 non c'è una band emergente qualcuno di voi magari li conosce già o lo conosce già andiamo a fare un giro in un genere che un gioco di parole che ha moltissimi anni di tempo i blues il rock and roll e lo facciamo con albert rey and the rain man che sono già accomodati sul nostro divano con albert rey c'è una conoscenza di parecchi anni e per questo che ha detto insomma magari qualcuno ti conosce e ti segue anzi vi segue perché fate questo genere che è il blues blues è una delle delle materie principali di tutto quello poi che è nato dopo noi arriviamo al rock and roll comunque american music la nostra hai un disco in uscita sì abbiamo un disco che si intitolerà i'm a rocker sarà è prevista l'uscita per il prossimo inverno è un disco che conferma il nostro il nostro genere il nostro passato il palco è tutto vostro per i'm a rocker che è anche il titolo dell'album intanto ascoltiamo i'm a rocker albert rey and the rain man 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 a get the Memphis King on my ringing tone I'm a rocker I'm a loser 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 I'm a rocker if I'm a rocker I'm a loser now From the house of Texas blues Sir Doc Flacco, Freddie and Hoagie too In the face from New Orleans Freddie and Halberds have the kings When you call me at the phone I get the Memphis king of my ringing tone I'm a rocker, I'm a loser 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 And I'm a rocker, babe I'm a loser now You are a rocker, guys Albert Ray and Rayman Con I'm a rocker Dal loro album Ormai di prossima uscita I'm a rocker Si chiama nello stesso modo Accomodatevi Ci sono L'hai scritta tu in inglese I play American music since 1988 all over the world There are two types of American music Quite a lot I play both Cioè in poche parole Ci sono due tipi di musica americana Quella forte e quella un pochino più intima E noi le suoniamo tutte e due Qua ci avete dato dentro, ragazzi Noi come questo brano comunque è un brano di due minuti e dieci secondi Cioè il rock and roll deve essere una flashata Per cui brano intenso, breve e titolo immediato Quindi le sketch di Albert Ray and Rayman Dove vi troviamo sul web? Sul MySpace, Albert Ray Gardner E YouTube E un po' Noi ci salutiamo In bocca al lupo, ragazzi Crepi il lupo Ci salutiamo e ci diamo appuntamento per la prossima puntata di Special One Non prima di avervi ricordato Che Special One è anche una talent university Per cui se avete voglia di lavorare E imparare anche un mestiere Dietro le quinte Cameraman, sceneggiatore, autore Siete ideatori di format Beh, scriveteci SpecialOne Chiocciola2f.it E visitate il nostro sito www.specialonetv.it Ci sentiamo alla prossima Ciao da Pietro